salve amici ho appena ritirato dal cordiere questo scatolone a dir poco ingombrante vi voglio anche dare le misure e allora si parla di 53 centimetri per 63 per 30 vi racconto questa mattina ricevo un sms sul mio cellulare dicendo che in giornata riceverò la visita del cordiere che mi consegnerà qualche cosa io avevo ordinato su gearbest una stampante 3d dovrebbe essere questa ancora non l'ho aperta sono curiosissimo e visto che molto spesso questi cordieri dicono che vengono e poi insomma non si vede nessuno ho pensato bene di andare direttamente in sede a vedere se questo qua stava facendo lo scherzo che mi fa sempre cioè mi arriva lsms ma la merce resta in deposito e così realmente è stato vado al deposito del corriere per l'appunto il corriere che si chiama seur e niente l'aquila brillante che stava lì alla reception mi chiede mi domanda sai com'è fatto il tuo pacco ragazzo cico quando me lo darai lo saprò e te lo dirò vedete qui si ha a che fare con delle menti brillanti di questo tipo ora io posso supporre di che si tratti nel momento in cui vedo il pacco le dimensioni anche perché pacchi ne ricevo costantemente non dico tutti i giorni ma quasi e questo qui insomma è bello grandicello quindi si confà con quelle che potrebbero essere le misure della stampante 3d che ordinato ordinato un alfa wise 20 che per l'appunto è una stampante 3d una stampante che stampa plastica oggetti di plastica scusate informato 40 40 per 50 se non erro non vorrei dire una sciocchezza ora andiamo a vedere come imballata perché lo scatola esternamente venuto con qualche piccola bottarella niente di gravissimo però allora il confezionamento devo dire che sì 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 è la mia stampantina fantastico il confezionamento devo dire che è molto molto buono curiosamente mi doveva arrivare dalla scena in realtà mi arrivata da roma da roma in spagna c'è da roma alla spagna eccola qua qua c'è il manuale di istruzioni u20 3d printer quick start and book alfa wise suppongo che sarà tutto quanto in inglese sì però manualetto a colori cosa molto carina con tutti i componenti che trovo all'interno componenti accessori e via dicendo qua c'è una guida all'assemblaggio vedete viene smontata però mi sembra che il castelletto che monta il motore è già montato e poi sicuramente ci sarà la base quindi bisognerà assemblare soltanto le due parti nulla di complicato comunque da quello che posso intuire c'è un pochino tutto sia gli attrezzi per il montaggio tutto sì e delle foto a colori che sinceramente aiutano sempre tantissimo normalmente quando bisogna fare degli assemblaggi dei montaggi un po di tutti quanti gli utensili che magari mi sono già passati per mano molto spesso mi trovo dei libretti di istruzioni in bianco e nero è qualcosa di assolutamente odioso in questo caso sono felicemente sorpreso di vedere che a colori questo sicuramente è un valore aggiunto per il prodotto che si va a ricevere e in inglese ma diciamo che oggi inglese un pochino per tutti è oramai standard quando si comprano utensili macchinari e devo dire che bazzicando su internet non avendo studiato inglese ma bazzicando su internet oramai da anni quello che sono le parole più più indicative oramai le riconosco quindi non è difficile poi laddove non si capisce la lingua ci sono sempre le figure faccio molto bene mettiamo da parte il manuale e cerchiamo di capire un attimino che c'è qua vediamo se posso estrarre senza fare danno a questo dovrebbe essere il piano di stampa vedete c'è il piano di stampa che questo con le relative pinzette ce n'è una che si è mollata questo il castelletto qua ci dovrebbe essere questo è un motore questo è un motore no scusate ho detto una una sciocchezza questa è la base con il motore per andare avanti indietro quindi questa quella base è il castelletto che supporta il fusore sta qui sì 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 fantastico in questa scatoletta sono curioso di sapere cosa c'è è tutto quanto ben compattato e questo tipo di imbottitura assolutamente eccezionale e perfetta per evitare danni da trasporto quindi non abbiate timore nell'acquisto di questa stampante perché è un'ottima eccellente imbottitura allora cosa trovo in questa scatoletta di cartone delle chiavi per il montaggio dei piccoli cacciaviti qua c'è un cavetto usb tipo quelli che si trovano sulle stampanti sulle comuni stampanti aggetto di inchiostro laser che siano qua ci sono delle t che servono per il montaggio e c'è anche una parte elettronica questo sembra tanto un interruttore di fine corsa qua c'è la l'SD card perché questa è una stampante che per l'avvio di stampa l'avvio della realizzazione dei lavori necessita l'inserimento di un SD card e ci forniscono anche questa non so da quanto sia non penso che sarà grandissima come capienza ma poi qua c'è un set di chiavi a brugola non so dirvi se le misure siano in millimetri o in pollici in ogni caso sono quelle previste per il montaggio di tutta la componentistica una presa sciuco e quest'altra che si collega al gruppo di gestione del software non so come si chiama però insomma è la classica per alimentatori vedete qua c'è anche una pinza una troncatrice una piccola pinza per troncare questa probabilmente servirà per troncare il il filo di plastica quando si stampa quando si finisce di stampare qua forniscono una bobina da quant'è da 200 grammi non è tantissimo ma sufficiente per fare ovviamente le prime prove di stampa blu è un blu buffo temperatura di stampa tra i 200 e 240 gradi celsius 1,75 mm di diametro ragazzi io sono completamente ignorante riguardo alle stampe 3d ho voluto fare questa scommessa l'ho comprata vediamo se sono in grado di fare qualcosa speriamo perché non è che costi poco questo non so cosa sia sembra un carterino di protezione di non so che ce ne sono due andiamo a rimettere tutto quanto dentro vediamo poi cos'altro mi hanno mandato ok qua c'è il c'è l'hardware di gestione del software che tirarlo fuori in questo momento pesa un botto alpha wise qua c'è il display la cavetteria vedete aiuto qua ci sono tutti quanti connettori per i motori e non so cos'altro comunque ogni cavetto è contraddistinto da delle sigle da delle lettere quindi seguendo passo passo in manuale le istruzioni sicuramente non sarà difficile andare a collegare tutto nella giusta maniera cosa possiamo evincere da qui power 280 watt misura di stampa 300 per 300 per 400 quindi prima mi sono sbagliato modello alfa wise uventi funziona con 220 240 ok e qui c'è il castelletto che supporta per appunto il il fusore bene ragazzi questo unboxing l'abbiamo fatto ora con un po di calma e tranquillità e sangue freddo soprattutto provvederò al montaggio il momento ripongo tutto quanto in ordine e ci becchiamo non appena ho finito di montare il tutto mi darò un giudizio sommario su quello che è stata la difficoltà del montaggio non penso che ci siano problemi però come potete ben capire è qualcosa che è bene fare in calo con calma e con tranquillità seguendo passo passo quelle che sono le indicazioni manuale ok amici bene ci aggiorniamo al prossimo video comunque cliccate sul pulsante perfettore descrizione e cerchiamo di capire come poter iniziare a fare delle stampe 3d prima come iniziare e poi come iniziare a farle anche decenti ok ciao ragazzi a tra poco